Ciao a tutti, sono Fabrizio Tozzi della scuola primaria di San Benedetto del Tronto Armando Marcheggiani e questo progetto si chiama Musicode perché è un connubio tra il coding e la musica. Il coding è un linguaggio che i bambini già dalla prima classe di scuola elementare conoscono attraverso la piattaforma code.org sulla quale lavorano tuttora, ora fanno la terza e si allenano costantemente a programmare attraverso i blocchi e attraverso un linguaggio simile a Scratch che loro già conoscevano in prima elementare siamo riusciti a costruire una partitura musicale. Loro sono riusciti a suonare un brano, a sonorizzare un brano di musica classica leggendo non una partitura convenzionale ma leggendo una partitura formata da blocchi che loro stessi hanno disegnato, quindi si tratta di un'attività unplugged che poi è stata trasformata attraverso un programma di grafica, è stata trasformata in blocchi e loro seguono la partitura con un robottino che si sposta attraverso i blocchi e in questo modo non hanno nessuna necessità di seguire un direttore che li guidi ma la loro attenzione è catturata al 100% da questa immagine del robottino che si sposta attraverso i blocchi e con questa attività riusciamo a mettere su un brano anche con un gruppo di ragazzi che non conoscono la musica in circa 20 minuti di training, 20-25 minuti mettiamo su un brano molto divertente è un'attività sperimentata anche con altri gruppi, anche meno esperti e diciamo che questo modo di lavorare dà i suoi frutti anche con brani diversi da quello che stiamo proponendo